Allora, 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 la crisi politica, parliamo un po' del campo largo, allora il PD col campo largo perde le elezioni, le perde comunque ma le straperde, è il primo partito italiano, perché? Perché la sinistra ha l'unica identità nel PD della sinistra, cioè mentre la sinistra estrema è stra parlamentare del 2%, diciamo, quella che sono più affezionato io, diciamo, però la sinistra marxista, anticapitalista, pacifista, quindi, Conte fa perdere le elezioni nella sinistra, perché tanto è il partito del 2%, ormai Conte non esiste più, oggi ha parlato di radicamento territorio, scusa, territoriale, ma il territorio, cioè, ha un anno dalle elezioni, dalle elezioni, perché il problema del 5 Stelle è che non ha, c'è un partito di potere, un partito nato sul web, un partito che ha fatto, che non ha mantenuto le promesse, ma va bene, ma è oltre al reddito di cittadinanza, ma che è stato votato dalla Lega il reddito, capito? Quindi alla fine, però, è stato un patto di legislatura, metti là come ti pare, però Salvini ha dato il voto, quindi la Lega è compromessa, capito? E si è sciolto come neve al sole il 5 Stelle, neanche il Grillo parla più, perché tanto alla fine è un partito magmatico, è un partito che non ha dei valori di riferimento. La destra, quando va insieme, adesso tipo a Viterbo ha perso la destra, ha vinto, non so, ha vinto il partito di Sgarbi, non so, ha preso il 32%, non ti voglio dire una cacchiana, anche Catanzaro vanno al balottaggio, ho detto che, solo che i dati arrivano, a Riccione ha perso la destra, ha vinto la centrosinistra, nettamente, quindi, onore ai vincitori, perché guarda che fare il sindaco rischi solo avvisi di garanzia, quindi guarda, il mestiere più difficile del mondo e io ho massimo rispetto per i nostri politicanti e governanti, anche se qualcuno ogni tanto sbaglia, però, quello fa parte del gioco, se no, scusa, che divertimento c'è. E allora ti stavo dicendo, il PD si sta suicidando con il 5 Stelle, che il 5 Stelle non lo voterà più nessuno, prenderà qualche milione di voti dei militanti, tanto qualche milione di voti, vuoi che non lo prenderà il 6%, ma il partito, quella rivoluzione d'ottobre, che era stato il 5 Stelle, che era una roba, poi, attenzione, la rivoluzione dei 5 Stelle, ha coinciso con i social, con l'esplosione dei social, con l'esplosione del web, è un partito magmatico, esiste solo sui social, non è un partito che ha le sanzioni, che è radicato nel territorio, che ha un sistema di potere, la sinistra è un sistema di potere profondo, la sinistra è nelle associazioni, è nelle acli, è nelle cooperative, anche la destra ha dei valori, la destra trampiana è quella che si ispira alla Meloni, infatti la Meloni è atlantista, però dice sempre, però vai, è una sbagliata, la destra repubblicana ha dei valori conservatori, è anti-abortista, contro le unioni omosessuali, anti-immigrati, è guerra fondaia, è garantista, capito? E poi Salvini ha appellato un'altra volta sul referendum, perché comunque la sua bandierina ce l'ha messa, poi è ovvio che era stata una manovra scomposta, era affazzonata, adesso quello che rischia è il governo, perché secondo me tutti tireranno l'acqua al proprio mulino, Salvini non sta lì a prendere gli schiaffoni, perché i sondaggi adesso vanno, la Meloni ha preso i voti al nord, cioè, secondo i flussi elettorali, la destra è maggioranza del paese, perché se raggiungi mi sembra il 42%, puoi fare il governo col premio di maggioranza, se la legge elettorale rimane così, ok? Quindi, se la Meloni prende voti nel nord, Salvini, l'unica cosa che può fare, come ha detto un sottosegretario da Porro, 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 e fa ricadere il governo, perché almeno così sparigli le carte e vai al voto, tanto adesso la pandemia sta andando a termine, l'unica opzione è il voto, anche perché se entri in una recessione profonda, cosa non da escludere, non da escludere, poi bisogna vedere come va la guerra, cioè, in politica le cose cambiano velocissimamente, però, insomma, se le cose vanno come vanno, il paese è scelto, il vento tira a destra, poi, ovviamente, dopo un anno o due, con l'ingovernabilità cronica, saranno sempre sottoposti, non col mio voto, che io non voto nessuno, saranno sempre sottoposti a sondaggio, poi il Presidente del Consiglio lo sappiamo, è sull'otto volante. Grazie.